Tribunale di Catania, risarcimento per 94.000 euro all'azienda per anatocismo, interessi su interessi, su un conto corrente, affidato. Tribunale di Reggio Emilia, sospende l'esecuzione di 456.000 euro per fiduzione nulla, abbiamo annullato la fiduzione. Tribunale di Bologna, risarcimento per 112.000 euro per un mutuo indeterminato. Dopo 18 anni abbiamo migliaia di sentenze, milioni di euro restituiti alle persone che avevano la conoscenza e hanno fatto un'azione per controllare la propria banca. Quanto è importante oggi per un privato e per un'azienda conoscere gli investimenti che fa, conoscere i contratti che firma? Quale specializzazione ci vuole per fare questo? Io ti dico che se oggi controlli la tua banca, il tuo business può aumentare in modo vertiginoso. Possiamo bloccare pignoramenti, aste giudiziarie, decreti ingiuntivi. Possiamo farti prendere rimborsi importanti che possono cambiare la tua vita. I giudici che fanno bene il loro mestiere esistono e non ti aspettare che il tuo commercialista o il tuo avvocato stabilisca che questo è giusto o questo è sbagliato. Ogni persona deve fare il suo mestiere. Ti dico che oggi l'importanza dell'informazione è fondamentale, ma ancora di più è importante la tua scelta. Che il tuo argomento sia mutuo, il prestito, se vuoi controllare gli investimenti, se vuoi vedere se la tua fiduzione sia annullabile o meno, l'importante è che tu faccia una scelta. controlla la tua banca.